Salumi e di formaggi E poi diceva che invece questa selezione di formaggi e di altri produttori locali Piccoli produttori piemontesi che spaziano un po' dall'Alessandrino, Novara e Cuneese Tra i salumi invece qual è quello da assaggiare assolutamente? Sicuramente la nostra coppa che è una stagionatura che va dai 6 agli 8 mesi E il salame di puro prosciutto perché è molto delicato, molto dolce perché è fatto solo Con la parte della coscia del maiale e il grasso intorno ad essa Bene, grazie Perfetto